Secondo la CNA il risanamento energetico vanto della provincia di Bozzano è in realtà uno strumento mal sfruttato solo per gli edifici privati, infatti ci sarebbe un potenziale di certificati bianchi pari a 2-3 milioni di euro all'anno che non viene concretizzato. I certificati bianchi sono titoli negoziabili trattati alla borsa del gestore del mercato energetico che certificano il conseguimento di risparmi energetici attraverso interventi realizzati in un periodo compreso tra 5 e 8 anni. Il sistema prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati quantitativi di risparmio di energia primaria. Tale obbligo può essere assolto realizzando i progetti di efficienza energetica che diano diritto ai certificati bianchi oppure acquistandoli da altri soggetti. Ogni certificato che vale in media 100 euro corrisponde al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio. Secondo Gianni Sarti, responsabile delle politiche urbanistiche della CNA, in provincia di Bozzano i risanamenti energetici degli edifici pubblici potrebbero essere monetizzati dagli enti che li eseguono e i soldi ottenuti potrebbero confluire in un fondo di rotazione per finanziare altri interventi o per agevolare riqualificazioni energetiche da parte di privati. Questo però non avviene, spiega Sarti, nonostante la nostra proposta lanciata due anni fa e che è rimasta nel cassetto della politica. L'argomento dei certificati bianchi è tornato d'attualità dopo che la giunta provinciale lo scorso martedì ha assegnato all'agenzia Casa Clima la competenza per la gestione e la consulenza dei certificati. E a tal proposito il presidente di CNA Claudio Corarati si chiede perché non siano stati preventivamente coinvolti i privati già impegnati nella Sutirol Esco, la Energy Service Company fondata due anni fa proprio allo scopo di offrire servizi di efficienza energetica degli edifici facendo l'investimento al posto del cliente e proponendogli di pagare un canone annuo. I flussi di cassa originati dai risparbi energetici conseguiti, conclude Corarati, ripagherebbe l'investimento e tutti gli oneri in un tempo ragionevole e il ciclo si completerebbe rivendendo i certificati bianchi legati ai risanamenti.